Se stai guardando questo video è perché probabilmente stai pensando di vendere casa. Se così fosse, fermati perché ciò che ti dirò è fondamentale per il tuo futuro. Ciao, sono Marco, marketer immobiliare che ti vende casa a miglior prezzo di mercato senza perdere di tempo. O la provvigione è gratis. Oh, ecco che arriva il fenomeno! No, tranquillo, non sono un fenomeno su nulla, ma ho studiato per anni un metodo che potesse rivoluzionare questo settore e oggi ho i risultati e le testimonianze per farlo. Se stai veramente pensando di vendere casa, la prima cosa che ti starai chiedendo è ma quanto costa la mia casa? In questo video avrai l'esatta e veritiera risposta a questa domanda. Avrai sentito in giro parlare del calcolo che tutti fanno per venderti casa. Metri quadri per prezzo di zona. Bene, se andiamo in internet e analizziamo questo dato, scopriamo che è tutta una grande bufala. Questo sistema si basa su una media di zona, prendendo esempio case che a malapena stanno in piedi e super ville di Hollywood con piscina. Magari tu devi solo vendere una classica villetta a schiera o un appartamento. Come può questo calcolo comprendere il vero valore della tua casa, senza basarsi su un'analisi specifica e paragonandola ai mobili che sono presenti forse solo a Dubai? Ti dico questo perché se sbagliassi ti ritroveresti con una palla di cannone legata al piede, ovvero la casa invenduta per anni o peggio svenduta, senza contare la perdita di fiducia del tuo partner e in te stesso, in quanto non sei stato capace di informarti e di fare la scelta giusta. Non dico questo per offenderti, per carità, ma ti sto mettendo davanti la realtà. Da anni in questo settore mi fa rabbia vedere quei proprietari di casa dare fiducia alle persone sbagliate che valutano a casa loro anche il doppio del valore, solo per garantirsi la fiducia del cliente. Così facendolo tengono bloccati per anni, non preoccupandosi minimamente che magari aveva altri progetti importanti legati alla venda di quell'immobile, oppure caso contrario avere quei clienti che hanno gravi problemi di salute economici e trovano l'approfittatore che sbaluta la loro casa solo per incassare velocemente la provvigione. E qui ti chiederai, Marco ma allora di chi devo fidarmi? Di te stesso, devi comprendere al 100% quanto vale i tuoi mobili e se seguirai questi passi ti aiuterò a scoprirlo. Ho preparato un questionario anti svendita che potrai avere gratis per farti comprendere da solo quanto vale veramente la tua casa. Tranquillo, non riceverai nessun tipo di spam, lo odio quanto te. Inoltre non troverai la classica analisi fatta da un robot ma riceverai sempre gratuitamente un'analisi fatta da un consulente specializzato nella venda di immobili residenziali che ho accuratamente selezionato per te e che ti inverrà una valutazione esatta per ottenere il massimo prezzo di casa tua. Ricevela subito, non rimandare, oggigiorno nel mercato immobiliare il tempo è prezioso. Con questo ho detto tutto, da Marco Marketer Immobiliare ci vediamo a rogito, ciao!